Però appunto voglio dire, l'importante è che la gente abbia a disposizione gli elementi per riflettere autonomamente, che è una cosa che si continua a cercare di impedire, tutto lì, io vi dico guardate che c'è anche questo, se vi piace ci ragionate, non ci credete, ci ragionate, se non vi piace lo buttate nel cestino, amici come prima.